Quanti di voi hanno già studiato il diritto? Sulle mani. Ok. Allora invece un'altra domanda. Quanti di voi hanno studiato il latino? Che è successo? Mi stanno, abbiamo un espluato i latinisti. Va bene, ok. Allora, perché queste due domande? Cerco di spiegarvi la ragione delle due domande. Allora la prima domanda nasce dal fatto che probabilmente il diritto così come lo avete studiato alle superiori, immagino avete fatto un istituto tecnico nel quale appunto c'è stato anche lo studio del diritto, non ha esattamente il diritto che si studia a livello universitario, se volete per fortuna, perché insomma passare ad un grado di studio superiore significa anche. Ma è proprio un modo diverso che noi, diciamo, professori di diritto che insegniamo diritto a livello universitario, intendiamo il diritto. intendiamo il diritto più che altro come scienza giuridica, quindi il pensiero che c'è dietro al diritto è chiaramente senza tralasciare il fatto che il diritto è uno strumento. uno strumento nelle mani degli operatori che sono anche gli operatori che, come voi, si occupano di economia, di azienda perché, come andremo a vedere ben presto, diciamo i presupposti per le operazioni anche di natura, come dire, aziendale e tutto quello che vuoi andare a fare, si basa su istituti giuridici, dai quali quindi voi non potrete prescindere. non potete prescindere, e in questo senso sto guardando e sto, come dire, concentrandomi sulla vostra, come dire, vita professionale, su quello che vorrete fare professionalmente, ma ancor prima, nel diritto voi non potete fare a meno nella vostra vita quotidiana. e già non ne fate a meno. Qualsia, ogni volta che voi montate su di un mezzo pubblico per arrivare qui all'università, voi state concludendo un contratto, un contratto di trasporto. Ogni volta che accedete ad internet per acquistare qualcosa, voi state utilizzando una contrattazione telematica, poi mettete una serie di spunte di click, vi spiegherò che cosa fate, quali effetti giuridici producono queste vostre attività. Ecco, ma ancora prima, volete sposarvi? Volete unirvi civilmente? Volete mettere al mondo dei figli? Che diritti, che doveri nascono da queste vostre scelte? Procreare dei figli, che doveri comporta? Quali sono? Ci sono temi successori? Come vengono regolati? Vengono regolati dal diritto privato. Quindi il diritto privato perbade la vostra, la nostra vita quotidianamente, per questo vi servirà a livello professionale, vi serve nella vostra vita quotidiana. Ed è questo l'approccio che vorrei voi assumiate nello studio del diritto, che sarà in parte mnemonico, sarà sicuramente, però vi assicuro, è molto più utile di quello che voi forse oggi credete, possiate credere. Fatte tutte queste premesse, cominciamo a parlare di diritto. E qui ecco perché vi ho chiesto chi di voi conosce il latino, perché chi di voi conosce il latino magari adesso alza la mano e mi dice cosa significano queste due frasi che ho scritto qui su questa slide? Ubi ius, ibi societas. E poco a fianco, ubi societas, ibi ius. Qualcuno che si lancia in una traduzione estemporanea? Dove c'è diritto c'è società e dove c'è società c'è diritto. Esattamente, diciamo, le due frasi significano questo, lo ripetiamo anche a vantaggio diciamo di chi da remoto, dove c'è diritto lì c'è una società, dove c'è una società lì c'è diritto. Perché utilizziamo queste due espressioni o i giuristi usano spesso quando iniziano la prima lezione di diritto o introducono qualcuno che non conosce il diritto, lo introduce il diritto, utilizzano questa espressione. Innanzitutto per dare immediatamente la misura della stretta interconnessione che esiste fra diritto e società. Mi fermo un attimo però sulla prima delle due. Ubi ius, ibi societas. Dove c'è diritto lì c'è una società. Ecco, questa espressione io ritengo che sia davvero vera. Scusate il misticcio di parole. Perché il diritto, le regole che impareremo a conoscere come regole giuridiche, le norme, ci sono, un sistema giuridico c'è sempre quando c'è una società, una pluralità di persone che si aggregano e vivono in forma sociale. Ebbene, quando ci sono regole di diritto, le regole di diritto trovano applicazione rispetto ad una compagine sociale. Quindi se un sistema è organizzato da regole di diritto, da norme, al di sotto di queste norme, al di sotto di questo ordinamento, di questo sistema, noi troviamo un'organizzazione sociale che applica quelle regole. Qualche dubbio invece avrei, o comunque si ha rispetto alla seconda delle due espressioni. Cioè, ubi societas ibi ius. Possiamo dire davvero che ogni volta che c'è una formazione sociale, lì c'è diritto? Molti dicono il diritto nasce con l'uomo. L'uomo ha bisogno di regole, ma non l'uomo singolo, non il singolo individuo. L'uomo ha bisogno di regole, ha bisogno del diritto quando ci sono più uomini, quando appunto si crea una società, un gruppo di persone, piccolo o grande che sia. Perché? Perché è l'interazione tra uomini che io ho bisogno di fissare delle regole. Ho bisogno di fissare delle regole perché quando ci sono più uomini, gli uomini anche di natura tendono ad entrare in conflitto fra di loro. Ciascuno tende a perseguire il suo proprio interesse e nel far questo tende magari ad andare contro l'interesse dell'altro. Ed allora abbiamo bisogno di regole che disciplinino la relazione fra individui. Per cui fin tanto che magari parliamo di un uomo solo che vive in una grotta e che non ha interazione con altri individui o in un'isola deserta, quell'uomo probabilmente non ha bisogno, sicuramente non ha bisogno di regole di diritto, forse si porrà delle regole di comportamento sue proprie. Stabilirà se mangiare a certe ore, se non mangiare, cosa mangiare, se ha, diciamo, del cibo limitato, stabilirà come mangiarlo. Però sono regole che si auto impone, che non riguardano la relazione con altri. Quando invece iniziano i rapporti, allora iniziano le relazioni. Il tema è, ma sono sempre regole giuridiche quelle che disciplinano le relazioni umane? O non necessariamente abbiamo sempre regole giuridiche? Se voi volete venire da me a ricevimento, in presenza, nel mio studio, cosa fate? Andate all'ex mulino, salite le scale, arrivate al piano e poi cosa fate? Di fronte alla mia stanza? Pussate alla porta, no? Vi verrebbe mai in mente di aprire la porta e entrare così di fronte a una porta chiusa del professore? Quella è una regola giuridica? C'è una norma giuridica che poi magari prevede una sanzione rispetto alla quale a voi non è ammesso entrare nel mio ufficio senza aver prima bussato? No, però è una regola, no? Che tutti voi, in fondo indistintamente, avreste detto di rispettare. E che cos'è questa regola? È una regola di comportamento. E qui cominciamo quindi a vedere delle regole che però non sono prettamente regole giuridiche. Perché ripeto, ogni volta che c'è una società, una formazione sociale, abbiamo bisogno di regole. Ma non necessariamente tutte sono regole giuridiche. E ci sono tante tipologie di regole che in realtà sfumano tra il giuridico e il non giuridico. Quindi partiamo da un presupposto. Il presupposto è che l'uomo nelle proprie, nelle formazioni sociali nelle quali tende ad aggregarsi, perché l'uomo è un animale sociale, tendiamo a creare gruppi sociali, gruppi sportivi, gruppi culturali. L'idea stessa di formare una famiglia, no? È un nucleo sociale. Tendiamo a, appunto, a organizzarci informazioni sociali. Ebbene, quando ci organizziamo informazioni sociali, di che cosa abbiamo bisogno? Di organizzazione. E questa organizzazione tanto più funziona quanto spontaneamente chi aderisce a quel gruppo sociale ne riconosce la validità. Perché poi, diciamoci anche la verità, non sempre ci piacciono le regole. Delle volte vorremmo, come dire, non seguire quelle regole, però quando è che la regola funziona? Quando la maggior parte, la maggioranza, qui poi, diciamo, si introduce il principio democratico, aderisce a quella regola e la riconosce come una regola valida in grado di disciplinare l'organizzazione sociale. Per cui, non so, siamo di fronte ad uno sportello? Arrivano delle persone che devono compiere dei servizi a questo sportello, uno sportello delle poste. All'inizio ci si mette tutti insieme, confusamente. E così non funziona chi è prima, chi è dopo, chi è che dovrà. E allora che cosa fa? Spontaneamente cosa facciamo? No, creiamo una fila, quella è una regola. Chi arriva prima verrà servito prima quello sportello. Oppure, appunto, adesso sono introdotti numerini, no? Per cui c'è il numero crescente man mano. Ecco, queste sono regole a quali noi aderiamo perché riteniamo che la nostra società abbia bisogno di regole che ci permettono di svolgere compiutamente le nostre attività senza conflitti, senza che ciascuno eserciti attraverso la forza, l'imposizione della forza, la propria volontà sulla volontà degli altri. Come vi dicevo prima, quindi, dove c'è società ci sono regole, direi io. Ci sono chiaramente anche regole di diritto, ma non sempre, non necessariamente perché dipende dai gruppi. Se delle persone decidono di giocare al gioco del calcio, di fare una partita, i giochi hanno le loro regole e chi vuole giocare e partecipare attivamente a quella partita deve rispettare quelle regole, se non le rispetta viene espulso, non può giocare, non viene coinvolto. E quindi quello è un gruppo sociale che svolge, che si pone delle regole. In quel caso sono le regole del gioco. Ora, tornando chiaramente alle formazioni sociali più ampie, a quelle di cui poi non ci occuperemo, occupandoci di diritto, dobbiamo dire che ci sono situazioni in cui regole giuridiche e regole sociali non giuridiche tendono a sovrapporsi. E qui vi passo quindi a un'altra, diciamo... Qui ho individuato alcune regole sociali. Per esempio possiamo ricondurre all'interno di questa macro categoria di regole sociali le regole religiose. Che cosa sono le regole religiose? Pensiamo alla religione cattolica che sicuramente è la più diffusa in Italia, anche se il nostro è uno stato laico. Quindi, diciamo, la religione cattolica non è la religione di stato. Perché attenzione, quando poi una religione diventa una religione di stato, e soprattutto quindi quando c'è una forte esavopposizione tra la regola religiosa e la regola giuridica, allora la situazione si complica. Pensate, no, in alcuni paesi arabi dove vengono applicate come regole giuridiche le regole contenute in un testo religioso che è il Corano. E allora lì la regola religiosa diventa anche regola giuridica. Generalmente negli stati occidentali, anche se in alcuni casi stati confezionali, cioè stati che hanno adottato una certa, diciamo, religione come religione di stato, questo non è il caso dell'Italia, le regole religiose, le regole giuridiche vengono tenute distinte. Però in alcuni casi collimano, coincidano. Pensate, no, ai nostri dieci comandamenti. Non uccidere, non rubare. Sono comandamenti, ma sono allo stesso tempo delle norme. Noi abbiamo delle norme che sanzionano il comportamento di chi uccide l'omicidio e lo sanzionano con la pena, diciamo, più grave che possa esserci, cioè quella della limitazione della libertà personale a quella una sanzione penale. Lo stesso vale nel non rubare, cioè non appropriarsi delle cose degli altri. Anche questo il reato di furto, rapina, rapina a mano armata, eccetera, eccetera, sono appunto delle norme giuridiche che ritroviamo anche come delle regole religiose. Certo, non nominare il nome di Dio in vano è invece un comandamento, ma se applicassimo una sanzione giuridica a questo comandamento, fosse anche solo una sanzione amministrativa, una multa, penso che insomma tutti, molti, soprattutto in Veneto, pagherebbero parecchie multe tutti i giorni, no? Allora, per scherzare un attimo, il discorso è proprio questo. Quindi esistono sicuramente dei campi di intersezione tra quelle che sono regole religiose, abbiamo detto, e regole giuridiche. Ancorpiù esistono fortissime intersezioni tra quelle che sono regole di condotta morale o diremo ancora noi, o impareremo a dire, parlando in particolar modo del diritto privato, regole di buon costume e regole appunto giuridiche. Qui di nuovo abbiamo una fortissima rapporto tra il diritto e la società. La nostra società, ogni società, ha una sua morale, persegue una determinata morale. Il problema quale è? Che la morale cambia. Il senso del pudore, il senso di ciò che è morale da ciò che è immorale, cambia, cambia nel tempo e nello spazio. Cambia nel tempo perché questo lo possiamo vedere immediatamente anche proprio occupandoci del diritto privato. Pensiamo, vi facevo prima l'esempio, no? Vorrete un giorno sposarvi, magari deciderete solo di convivere, magari deciderete di unirvi civilmente. Oggi lo potete fare perché oggi la società considera in forma equivalente tutte queste formazioni famiglia che si fondano sul matrimonio, istituto giuridico tradizionale, riconosciuto anche a livello di carta costituzionale, l'articolo 29 della Costituzione, ma oggi riconosce anche la possibilità a persone dello stesso sesso di unirsi civilmente. Ma attenzione, questo è qualcosa che nel nostro ordinamento avviene e è avvenuto in ragione dell'introduzione della legge 76 del 2016, la famosa legge Shirinna, forse voi siete già troppo giovani per ricordare il forte dibattito politico che c'è stato in Italia, sotteso all'approvazione di questa legge, nella quale che cosa ha fatto la legge? Si è evoluta rispetto a quella che è stata una modifica dell'idea morale che si aveva rispetto alla società. Pensate nel periodo del fascismo. Se si poteva mai pensi, sarebbe mai potuto pensare che copie dello stesso sesso potessero unirsi civilmente. Era reato, cioè era un reato. E stiamo parlando dei primi anni del secolo scorso, non è un periodo lontanissimo. E ci sono avuti moltissimi, siamo dovuti finire nel ventunesimo secolo, nel 2016, per arrivare a riconoscere attraverso una legge la possibilità a persone dello stesso terzo di unirsi civilmente, e quindi di decidere di accogliere di fronte allo Stato e di fronte alla società diritti e doveri che a coppia di sesso diverso è sempre stato possibile, come dire, applicare scegliendo la via del matrimonio. Poi c'è la terza via, quella della convivenza, che può riguardare sia gli uni che gli altri. La convivenza nasce come una forma di famiglia spontanea in cui coloro che, diciamo, decidono di convivere, chiaramente che sono legati, sono uniti da legami affettivi, non di pura amicizia, ma di natura, diciamo, sentimentale e sessuale, se volete, ecco, di stare insieme e di condividere la vita, le spese, avere anche dei figli senza necessariamente fare la scelta di consacrare questa loro unione con un atto laico, diciamo, quale, appunto, diciamo, lo scambio del consenso di fronte all'ufficiale di Stato civile o all'ufficiale oppure al ministro del culto, se parliamo di matrimoni che producono anche, religiosi che producono anche effetti civili, e queste persone decidono di convivere. Oggi l'ordinamento giuridico attribuisce un certa tipologia di tutele anche ai conviventi. Chiaramente, quando è che i problemi si creano? Questo lo diciamo adesso, impareremo a riconoscerlo andando avanti. Giuridicamente, quando è che il diritto entra in funzione? Entra in funzione quando l'accordo finisce, quando le cose non vanno più troppo bene. Allora ci sono chiaramente delle norme che riguardano anche quella che chiameremo la fisiologia dei rapporti, no? Per cui, nel momento che io mi sposo, assumo determinati diritti e doveri e, generalmente, spontaneamente adempio a quei diritti e doveri. Più complesso è quando poi il rapporto entra in crisi e quindi io voglio sciogliere quel vincolo e però alcuni diritti sopravvivono anche allo sceglimento di quel vincolo e quindi devo andare a guardare come l'ordinamento giuridico regola i rapporti di coppia dopo che è subentrata la crisi, no? del rapporto stesso. Ecco, quindi, perché questa lunga digressione? Per farvi capire quanto c'è fortissima interazione tra senso morale perché, attenzione, ripeto, partiamo dal fatto che i rapporti, anche i rapporti di convivenza venivano qualificati rapporti di concubinaggio, rapporti mori-uxiori, c'era un'aggettivazione negativa rispetto ai rapporti che non venivano, famiglie che vivevano senza essere sposate, c'era un'accezione negativa e non parliamo quello che era accaduto nei confronti dei figli. I figli che nascevano da matrimonio, in costanza di matrimonio, erano figli legittimi. Quelli che nascevano fuori dal matrimonio inizialmente erano figli adulterini, poi diventati figli naturali, fino a, di nuovo, una riforma recente che ha modificato tutta questa vecchia struttura e ha introdotto lo status unico di figlio. Oggi i figli sono figli, senza aggettivazioni, che siano nati in costanza di matrimonio, fuori dal matrimonio, che siano stati adottati, che siano nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita e via dicendo. Ma anche su questo avremo modo di tornare. Però questo, e la parte chiaramente soprattutto del diritto di famiglia, ed è lì che sto in questo momento traendo i maggiori esempi, è quella che sicuramente ne dà maggior atto, maggior riscontro, è proprio il fatto che l'evoluzione della società, del senso della morale, del senso del pudore cambia, e cambia di conseguenza anche il modo di regolare queste situazioni e il diritto si evolve. Chiaramente non sempre è facile far evolvere il diritto attraverso riforme normative, legislative, perché le procedure per queste riforme sono procedure lente, complicate. Ci sono spesso alle spalle, come è stato per la legge Cirinà, conflitti direi anche proprio di idee rispetto a come considerare effettivamente questi nuovi rapporti. Quello che accade delle volte allora è che il giudice, cioè colui al quale viene sottoposta la questione, il problema quando nasce un conflitto, a dover utilizzare una norma, magari una norma anche vecchia, una norma antica che nella sua dizione originale sembrava regolare quel determinato rapporto in una forma molto stretta, interpretare quella norma in modo diciamo più moderno e quindi applicare quella regola adattandola alla nuova morale, alla nuova, come dire, sentimento sociale. E questo avviene nei periodi di transizione quando appunto la società è già cambiata, è già evoluta, il diritto ancora non si è adeguato attraverso delle riforme legislative che magari prendono atto di questo adeguamento e cominciano ad esserci però problemi che vengono posti di fronte alle autorità giudiziarie che devono risolverli, che devono dare risposta, che devono applicare la regola e il giudice comincia ad interpretare quella regola e poi ad applicarla in forma evolutiva cercando quindi di adeguare l'ordinamento ai mutamenti della società. Quindi qui introduciamo anche poi tutto l'altro aspetto di cui ci occuperemo quindi della interpretazione delle norme e quindi della mobilità nell'interpretazione delle norme. Allora, mi fermo con voi ancora un attimo su due collegamenti, diritto e giustizia. Qui guardate, vi ho riportato come all'interno dell'emma giustizia cosa troviamo noi? Quella radice, ius, l'abbiamo appena, ibi societas, ibi ius, ius cos'è? Nel latino classico ius è diritto e la parola giustizia porta in sé la radice del concetto di diritto. Però attenzione, diritto e giustizia non sempre coincidono per tante ragioni. Allora, innanzitutto chiaramente un sistema di diritto è un sistema che cerca di perseguire un'idea di giustizia. Quindi un sistema di diritto perseguono certa idea di giustizia. Però la persegue ponendo delle regole generali ed astratte che valgono per tutti, per tutte le situazioni, il che significa che nelle singole situazioni, singoli individui potrebbero leggere in quella regola, in quella norma, una forma di ingiustizia. Perché quella regola, le regole di diritto tendono sempre a risolvere i conflitti, ma nel risolvere i conflitti devono dare ragione a qualcuno e torto a qualcun altro, devono bilanciare i rapporti. E quindi, dal punto di vista soggettivo, una regola è giusta per qualcuno ma potrebbe non esserla per qualcun altro. E questo, diciamo, come dire, ci fa vedere la contrapposizione tra un'idea di giustizia generale, e quindi un'idea di giustizia che è perseguita da un determinato ordinamento giuridico, e quella che è invece la giustizia, tra virgolette, individuale, la giustizia del singolo. E se vogliamo, la posizione di regole di diritto ha proprio anche la funzione di evitare che il singolo possa in qualche modo farsi giustizia da solo. Perché è chiaro che un'altra, diciamo, delle tendenze che avrebbe l'uomo è di reagire all'ingiustizia facendosi giustizia, no? Esercitando giustizia, quindi la vendetta privata, la giustizia privata. Mi rubi qualcosa, io ti inseguo, te le do e mi riprendo quello che mi hai rubato. Ecco, questo però, se così fosse, se dovessimo lasciare libero spazio a questo tipo di comportamenti, quella organizzazione, quella pace sociale che la giustizia vuole perseguire, che il diritto, scusatemi, vuole perseguire, non sarebbe raggiungibile. E allora il diritto introduce una serie di meccanismi attraverso i quali l'idea di giustizia viene raggiunta, ma con dinamiche, con delle procedure per cui se qualcuno mi ruba qualcosa, io devo andare a denunciarlo. Ci deve essere un processo, deve essere condannato per furto e poi avrò la mia giustizia. Devo evitare che, come dire, ci sia ad un'azione, una reazione di giustizia privata, perché questo porterebbe al conflitto sociale e quindi porterebbe poi alla fine esattamente a far... è l'opposto dell'idea del diritto, esattamente l'opposto. di quella che è l'idea del diritto. Un ultimo passaggio per voi, credo essenziale, è il rapporto appunto fra diritto ed economia. Allora, qui partirei sicuramente... diciamo che giuristi ed economisti non si amano particolarmente, hanno un approccio nei confronti dell'idea delle regole del mondo di come è organizzato, parzialmente diverso proprio per formazione, però devono e lavorano assieme proprio perché gli uni sono funzionali agli altri. E soprattutto, attenzione, una cosa che ho cercato di suggerirvi fin dall'inizio di questa lezione, l'economia non può fare a meno degli istituti giuridici, perché l'economia si serve degli istituti giuridici e studia la società, che studia il mercato, che studia la ricchezza e come la ricchezza si muove e quindi studia tutti quegli strumenti che la società, le società complesse, hanno creato e strutturato, che sono strumenti giuridici mediante le quali la ricchezza viene creata e viene distribuita e viene ridistribuita. Quindi l'economia non può fare a meno degli istituti giuridici, non può fare a meno del denaro. E che cos'è il denaro? È un bene. Impareremo a parlare del denaro come bene. E delle obbligazioni che hanno ad oggetto del denaro come obbligazioni pecuniarie. E da lì tutto ciò che ruota intorno al denaro, agli interessi e alle operazioni che vengono fatte del denaro, tutto parte dal diritto privato, dal concetto di bene, dal concetto di denaro e da come questo denaro viene messo in circolazione. Ma ancora di più, nelle società complesse chi opera non sono i singoli individui, le persone fisiche, sono persone giuridiche. Il diritto ha portato alla creazione di soggetti giuridici, personalità giuridiche, di che cosa sto parlando? Di SRL, di società per azioni, cosa sono? Sono soggetti giuridici. Nascono grazie all'applicazione di regole giuridiche che portano alla formazione di queste nuove soggettività giuridiche che poi operano nel mondo. E poi come circola la ricchezza? Mediante un altro strumento giuridico o molto complesso, il contratto. È il contratto tutte le tipologie di contratti che tutte le società creano e che portano alla circolazione dell'economia e del denaro. Quindi, primo punto, l'idea dell'economia, dell'attività di impresa, dell'attività di azienda, non può fare a meno degli istituti giuridici che sono alla base della creazione delle società e soprattutto delle società complesse di cui noi oggi ci occupiamo, di cui voi occuperete nella vostra vita professionale. Ancora c'è un discorso, come dire, più politico, che qui posso solamente accennarvi, però che anche quello è giusto un pochino prenderne atto. Perché si possa, come dire, dar atto dello sviluppo di una politica economica di stampo capitalistico, che è quella, diciamo, di cui oggi nei paesi occidentali noi ci occupiamo, regoliamo, magari proviamo anche a contrastare, ma comunque ci pervade in tutta la nostra vita e quotidianità. C'è bisogno che ci sia una società organizzata e pace sociale. Non ci può essere sviluppo economico reale in una società dove non ci sia una pace sociale, una struttura di legole giuridiche che in qualche modo garantisca questa pace sociale, e quindi il prosperare dell'economia. E questa è una lettura, no? C'è un'altra lettura che invece vuole l'ordinamento giuridico a servizio di un'idea di economia. Per cui, così, nella ideologia, per esempio, marxista, in realtà le strutture giuridiche che sostengono, diciamo, il sistema capitalistico sono strutture giuridiche a servizio della classe borghese, quindi sono messe, come dire, in funzione del perseguimento degli interessi di sviluppo di un'economia di stampo capitalistico. Comunque la vogliate vedere, poi chiaramente ci sono altre letture ancora più complesse, però comunque la vogliate vedere mi sembra chiarissimo la strettissima interconnessione e interdipendenza tra diritto ed economia. A questo punto iniziamo a parlare. Qui avrei forse voluto farvi prima una domanda, però ve la faccio adesso anche leggendo voi quello che io vi riporto. Se io vi dico, vi dovessi chiedere, a cosa pensate voi quando pensate al diritto? Se io vi dovessi chiedere, che cos'è per voi il diritto? Una serie di attributi. Questo è interessante perché lei mi dà una risposta che è generalmente rara, nel senso che quando faccio questa domanda tutti pensano al diritto come un insieme di regole o di norme e quindi al diritto che adesso impareremo a conoscere come diritto oggettivo e lei invece si è spostato sull'altra idea di diritto, assolutamente equivalente e importante, che è il diritto in senso soggettivo. Perché è vero? Ripeto, di solito quando qualcuno chiedo, insomma nei miei anni scorsi, cosa è il diritto? Sono le regole, l'ordinamento, sono l'insieme delle norme che regolano il nostro vivere sociale, insomma più o meno elaborate, ma si pensa sempre appunto al diritto come ad un insieme di norme, ad un insieme di regole. In realtà il diritto appunto può essere letto anche in forma soggettiva. Io sono proprietaria di questo telefono, quindi ho diritto di proprietà su questo telefono. Se andiamo a guardare i diritti fondamentali, diritto di voto, io ho il diritto di voto, il diritto alla salute, insomma possiamo declinare il diritto in forma soggettiva chiaramente in una pluralità di affermazioni di diritti soggettivi. Adesso ci arriviamo. Proviamo prima a mettere come dire un punto di chiarezza, quindi su che cos'è l'idea di diritto in senso abbiamo detto oggettivo. Allora il diritto in senso oggettivo è chiaramente un insieme di regole, che però impareremo a conoscere con il nome più tecnico di norme, la cui osservanza è garantita da una sanzione. Cioè queste norme hanno di solito, come dire, sono delle espressioni che contendono una formulazione di natura prescrittiva. Cioè la norma ti dice come ti devi comportare oppure ti vieta un determinato comportamento, quindi o ti dice dovresti comportarti così, o ti dice non puoi comportarti così, oppure dice potresti comportarti così. Quindi, come dire, ti dice che secondo la norma giuridica sarebbe bene che tu ti comportassi così, però forse potresti comportarti anche diversamente senza subire la sanzione. In ogni caso, quindi la regola giuridica però è una regola prescrittiva, cioè prescrive un determinato comportamento al quale, che se non viene rispettato, ha un effetto. Un effetto di natura giuridica, che può essere una sanzione oppure un altro effetto di natura giuridica. Cioè, non produce magari gli effetti, il comportamento che tu speravi producesse determinati effetti nella tua sfera giuridica, non li produce perché non hai rispettato quella prescrizione che quella norma ti dava. L'altra cosa importante è che chiaramente le regole giuridiche devono provenire da un'istituzione che produce queste regole, secondo dei procedimenti che le regole stesse giuridiche si danno. Cioè, un ordinamento, come dire, fissa esso stesso le regole di produzione normativa. Per cui, ad esempio, di chi è il potere legislativo nel nostro ordinamento? Del Parlamento, quindi il Parlamento ha un potere legislativo e all'interno della Carta Costituzionale, all'articolo 70 della Carta Costituzionale troviamo la procedura di produzione delle leggi, come le leggi vengono prodotte, quali sono tutti i passaggi necessari all'interno del Parlamento per arrivare a produrre un testo normativo. L'articolo 70 della Costituzione è esso stesso una norma, è una norma che disciplina le modalità di produzione di altre norme. Quindi l'ordinamento, come dire, si autoregola e si dà, diciamo, delle regole di produzione normativa. Come facciamo noi a distinguere le regole giuridiche dalle regole sociali, quelle di cui abbiamo parlato prima, no? Quelle che non sono regole giuridiche. Beh, sicuramente da un certo punto di vista, come dire, la sensibilità di ciascuno di noi ci porta, no? Sappiamo quando una regola è una norma giuridica o quando non lo è. Anche se in determinati situazioni, in determinati settori della vita, questo è più complesso delle volte, confondiamo la regola sociale, morale, con la regola giuridica e viceversa. Se vogliamo andare a cercare comunque dei criteri oggettivi per qualificare una regola giuridica, una regola giuridica innanzitutto ha una particolare forma. Che cosa significa? La norma giuridica si esprime, abbiamo detto, attraverso un enunciato linguistico che ha una funzione di natura prescrittiva. Quella che poi impareremo, e lo sentirete utilizzare ogni tanto questa espressione nel corso delle prossime lezioni, impareremo a conoscere come la fattispecie. Cioè molte delle norme che cosa descrivono? Descrivono una situazione generale ad astratta al verificarsi della quale l'ordinamento giuridico ricollega determinati effetti. La fattispecie è generale ad astratta, cioè deve in qualche modo potenzialmente ricomprendere una serie ampia di situazioni umane che vengono ricondotte all'interno di quella fattispecie. E quando il giudice, al quale viene sottoposto una questione, ritiene di poter far rientrare quell'evento umano all'interno di quella fattispecie, applicherà la conseguenza giuridica che quella norma fa derivare da quella fattispecie. Provo ad essere più chiara, vediamo se ci riesco. Prendiamo una norma che mi sentirete ripetere tantissime volte, l'articolo 2043. Cosa ci dice questa norma? L'articolo 2043 del Codice Civile. Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questa è una norma generale ed astratta che prevede una situazione nella quale un soggetto compie un fatto, un fatto umano, rispetto al quale questo soggetto che ha compiuto questo fatto può aver avuto una posizione soggettiva di dolo o di colpa, cioè può aver voluto creare quel fatto e le conseguenze di quel fatto, oppure può essere solo capitato per colpa perché non è stato prudente, non è stato attento. Allora immaginiamo, no, ad esempio che appunto mi sentirete fare e rifare, un ragazzo che gioca in un cortile, tira un calcio ad un pallone e il pallone rompe il vetro del vicino. Che è successo? Un fatto, un accadimento umano, un ragazzo che tira un calcio ad un pallone. Questo pallone però sfortunatamente colpisce un vetro e lo rompe. Qual è la conseguenza giuridica che discende da questo fatto? Ditemelo voi. Vi sarà capitato di tirare un calcio ad un pallone e aver procurato un danno? Magari in motorino, magari in macchina, tamponamento. Qual è la conseguenza di un accadimento umano tipo quello che vi ho appena descritto? Risarcimento del danno. E allora, ve la ricordate la norma del 2043? Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, il proprietario del vetro di casa sua che stava tanto bello tranquillo a leggersi il giornale, arriva il pallone e gli spacca il vetro, obbliga colui che ha commesso il fatto, il ragazzo nel cortile che giocava, a risarcire il danno. Quindi dovrà risarcire il proprietario del vetro e poi qui impareremo in forma specifica, quindi si impegnerà per lui stesso per portare il nuovo vetro, darà una somma di denaro equivalente a quanto necessario. E poi attenzione perché le situazioni si possono complicare molto, perché immaginate che quel pallone rompe il vetro e colpisce la nonna, la quale nonna cammina in modo instabile, cade per terra, si rompe il femore e la devono portare in ospedale. Vedete quanto un fatto umano possa portare delle conseguenze complesse alle quali poi ci sono della produzione degli effetti giuridici? Ecco, quindi per tornare a noi, la fattispecie, cioè la norma giuridica, cosa fa? Prevede questa fattispecie, questo linguaggio prescrittivo in cui viene descritto un fatto e viene data una conseguenza giuridica a questo fatto. Poi vedremo, ci sono norme diverse che hanno natura più prescrittiva, più descrittiva, norme imperative, norme dispositive, ma adesso pian piano ci avviciniamo. Dopodiché, chiaramente la norma è giuridica quando promana da un'autorità che è, diciamo, preposta alla creazione di norme giuridiche. E attenzione, le autorità hanno, diciamo, svolgono questa loro autorità su compagini sociali diverse, perché per esempio noi ci occupiamo, chiaramente in prevalenza qui dentro, dell'ordinamento italiano, ma l'Italia fa parte dell'Unione Europea e quindi ci occupiamo anche di tutta quella parte di quelle norme che sono prodotte dall'Unione Europea e che trova un'applicazione in tutti i paesi europei e anche in Italia. Quindi abbiamo un'altra autorità, non c'è solo lo Stato. E andiamo sotto, andiamo a guardare le regioni. Noi viviamo, residiamo nella Regione Veneto, quindi trovano applicazione per noi le norme che sono prodotte dalla Regione Veneto e che trovano applicazione, hanno un ambito territoriale ristretto rispetto alle norme che trovano applicazione nelle altre regioni. Quindi le autorità, poi, sono autorità che emanano queste norme giuridiche rispetto a delle compagini sociali che vengono individuate sulla base, chiaramente, di caratteristiche. Quelle che vi ho appena descritto sono tutte caratteristiche di natura territoriale. Vedremo che poi ci possono essere anche applicazioni di natura soggettiva delle norme. Cioè le norme trovano applicazioni solo rispetto a determinati soggetti, al fatto che determinati soggetti si trovano in determinate condizioni. Quindi non a tutti i cittadini, ma solo a quei soggetti che sono identificati. E quindi, appunto, qui la destinazione, i destinatari delle norme sono i cittadini in senso lato, i cittadini che chiaramente vivono all'interno di vari contesti territoriali oppure cittadini che si qualificano per alcune caratteristiche specifiche rispetto alle quali troveranno applicazione determinate norme specifiche. Pensiamo ad esempio a tutta la disciplina di natura consumeristica. quando parleremo del diritto che si applica ai rapporti di consumo, parleremo di tutte norme che trovano applicazione quando abbiamo rapporti economici che sono conclusi tra un soggetto che impareremo a conoscere come consumatore ed un soggetto professionista o esercente in attività di natura professionale o imprenditoriale. per cui tutte le norme di natura consumeristica troveranno applicazione quando ci sono questa tipologia di soggetti. Mentre se ci sono due privati che hanno rapporti tra di loro o due società, quindi due imprenditori che hanno rapporti tra di loro, la disciplina consumeristica non trova applicazione perché in questo caso l'applicazione si lega ad un dato soggettivo. È chiaro? Vabbè, comunque su queste cose chiaramente torneremo più nel dettaglio. Ecco, qui sulla distinzione tra diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo abbiamo diciamo in parte già aperto il discorso grazie alla risposta del vostro collega il quale appunto mi ha risposto qualificando il diritto in senso soggettivo e non oggettivo. Quindi mentre dal punto di vista oggettivo diritto all'insieme delle regole che disciplinano una determinata situazione e che abbiamo detto hanno tutta quella serie di caratteristiche quindi le regole insomma che entrano a far parte di un ordinamento statuale, regionale, sovranazionale, dal punto di vista soggettivo noi parliamo di diritto con riferimento a quel poteri o a quelle facoltà che una norma attribuisce ad un soggetto nei confronti di un altro nel momento che prescrive un determinato comportamento. Per cui se viene stabilito che un soggetto non si può appropriare della proprietà altrui quindi c'è un divieto per chi non è proprietario di appunto appropriarsi del bene altrui ma c'è allo stesso tempo quindi un diritto, un potere, una facoltà che viene riconosciuta al proprietario e che si qualifica come diritto di proprietà di esercitare su quel bene invece tutti quei poteri e quella facoltà che quel diritto gli riconosce. Nel caso del diritto di proprietà il diritto di proprietà è regolato dall'articolo 832 del codice civile e ci dice che il proprietario ha il diritto di godere e di disporre del bene in modo pieno ed esclusivo nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento giuridico. Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre del bene quindi ha un diritto pieno quando il bene quando un soggetto è titolare di un diritto di proprietà sul bene ha un potere molto ampio su quel bene poi vengono apposti dei limiti di natura privatistica, di natura pubblicistica impareremo a studiarli è breve ma partiamo da questa situazione di potere a questa situazione di diritto soggettivo che attribuisce al soggetto tutta una serie di poteri e facoltà che nascono da quella norma. Quindi da ultimo per oggi ci andiamo ad occupare di che cosa sono le fonti del diritto perché abbiamo detto che perché le norme giuridiche vengano considerate perché le regole vengano qualificate come norme giuridiche è necessario che ci sia un sistema di produzione di norme giuridiche quindi e abbiamo già detto che gli ordinamenti prevedono al loro interno meccanismi di produzione di norme giuridiche. E qui quindi possiamo dire certamente che il diritto regola la sua stessa produzione quindi si autoregola perché come vi dicevo se andiamo a guardare l'articolo 70 della Carta Costituzionale noi andiamo lì ad individuare tutta la procedura diciamo di produzione delle norme di natura legislativa. Qui però è necessario fare un piccola digressione perché noi siamo abituati nel nostro sistema che è di stampo romanistico il diritto diciamo così come nasce si produce e si diffonde nell'antica Roma e nell'impero romano e che poi è giunto fino ai giorni nostri che tende come dire a privilegiare l'idea di norma come testo normativo quindi come diritto scritto no? E infatti di cosa vi ho parlato? Vi ho parlato del codice civile che cos'è? Una raccolta di norme che riguardano una determinata parte della disciplina del nostro ordinamento. Eppure qui abbiamo però invece due sistemi che tendenzialmente un po' si contrappongono anche se poi sono due sistemi che tendono col passare del tempo sempre più ad avvicinarsi e abbiamo quelli che qualifichiamo come sistemi di civil law e quelli che qualifichiamo come sistemi di common law. I sistemi di common law sono i sistemi americani, in realtà inglese e poi successivamente sistema americano che si caratterizza qui ora chiaramente ragazzi faccio un discorso di massima poi andare a fare uno studio attento di come è nato e si è sviluppato il diritto di common law e quindi io farebbe cadere molti come dire di queste di quelle affermazioni che adesso io sommariamente vi vado a fare che richiederebbero diciamo una maggiore complessità di analisi. Però per farvi capire un pochino la differenza mi fermerò quindi a delle indicazioni più generiche. I sistemi di common law si caratterizzano per il fatto che la regola che viene applicata alla relazione sociale per risolvere il conflitto che insorge non viene cercata dal giudice all'interno di un testo scritto come avviene prevalentemente per noi. No? Abbiamo detto se il ragazzo tira il calcio dal pallone e il pallone rompe il vetro il proprietario del vetro va dal giudice e dice questo ragazzo ha rotto il vetro io voglio il risarcimento del danno. Il giudice va a guardare nel codice civile trova la norma di cui abbiamo parlato il 2043 e dice può rientrare questo caso, questo fatto umano all'interno di questa fattispecie astratta? Sì. Allora applico la conseguenza normativa prevista nel 2043 il risarcimento del danno, quantifica il risarcimento del danno, il valore della finestra e condanna il danneggiante a pagare il danno. Questo è diciamo il meccanismo semplificato chiaramente di come funziona nel nostro ordinamento. Cosa succede nei paesi di common law? Anche qui in linea di massima il giudice quando si trova il caso concreto, i giudici, non hanno un testo scritto dal quale traggono queste regole ma sono loro stessi a stabilire la regola da applicare in quel singolo caso. Chiaramente sono giudici che sono stati formati a questa diciamo a svolgere questo ruolo che quindi hanno studiato molto, hanno diciamo una formazione molto complessa. Però attenzione, anche lì si è creato negli anni i casi che si sono riprodotti, i fatti umani che si sono riprodotti sono spesso simili gli uni agli altri, no? E allora la regola di diritto che è stata creata nel precedente giudiziario in quel caso che magari 30, 40, 50, anche 80 anni fa è stato deciso e che era molto simile a quello di oggi io applico la stessa regola, la stessa rule of law, regola di diritto che era stata applicata in quel caso remoto. Ed è per questo perché se guardate i film americani, no? Vedete che loro cosa fanno? Non vanno sul codice ma vanno a sfogliarsi tutti questi raccolte di casi giudiziari dove vanno a cercare le regole che precedentemente hanno risolto casi simili o diciamo anali a quello che va. Ripeto, sto utilizzando un linguaggio semplificato e esprimendovi, diciamo, una semplificazione del sistema del comolo. Prego. Allora, il vostro collega mi chiede se nel comolo non c'è anche la presenza della giuria. Lei sta pensando a che cosa? Innanzitutto al diritto penale. Tendenzialmente, diciamo, no? Anche noi abbiamo la corte d'assise, cioè quando si parla di reati, se bisogna condannare qualcuno magari alla pena di morte oppure se bisogna condannarlo a pene detentive, allora lì spesso si applica la presenza di una giuria popolare che viene interrogata rispetto a... Noi stiamo parlando qui del diritto privato. Diritto privato e diritto penale sono due, diciamo, branche del diritto separate che hanno anche delle regole. Quindi quello che io vi sto esplicitando in questo momento, speriamo in questo momento, riguarda come funziona il sistema del diritto privato, cioè il diritto che regola i rapporti umani ma che non riguarda la parte penale. Poi su questo torneremo la differenza tra le varie branche del diritto. Quindi qui vi dicevo sistemi aperti e sistemi chiusi. Allora qual è l'idea? L'idea è che nei sistemi chiusi, il nostro rientrerebbe nei sistemi chiusi, noi abbiamo una serie di regole che sono consacrate in questi codici o in delle leggi che poi vengono fissate in un determinato periodo temporale e devono valere per tutti i casi a venire. Come vi ho già dimostrato parlando, in realtà la società spesso si evolve molto in fretta e quindi le regole che erano state fissate alcuni anni addietro magari non sono più soddisfacenti per risolvere questioni e allora deve intervenire una riforma legislativa. Ma in attesa che intervenga una riforma legislativa che cosa c'è? Il giudice deve risolvere il caso e allora cerca di interpretare quella norma in forma evolutiva e cerca quindi di fare quello che fanno un po' anche i giudici del common law. Cioè applica sì la regola che ha individuato all'interno del codice o del testo normativo ma la interpreta in forma evolutiva, poi si dice l'interpretazione costituzionalmente orientata, cioè l'adatta a quelle che sono le nuove esigenze della società chiaramente nel rispetto di quelli che sono i limiti dell'interpretazione delle quali poi anche ci occuperemo. Quindi quando sentite parlare della differenza fra common law e civil law diciamo in linea di massima la differenza è che noi ci basiamo su leggi scritte o comunque su leggi che vengono appunto prodotte con un determinato sistema di produzione normativa che poi vengono pubblicate sulla gazzetta ufficiale e sono dei testi scritti dove noi andiamo a recuperare queste norme. Nel common law invece sono dei casi dove i giudici hanno deciso, hanno applicato una regola di diritto e nel momento in cui queste regole poi vengono prese per risolvere casi successivi viene sfogliata tutta questa giurisprudenza e viene applicata. C'è un tendenziale avvicinamento fra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law. Quello diciamo che avviene dal sistema di civil law verso i sistemi di common law ve lo ho in parte già anticipato, cioè il fatto che i nostri giudici poi alla fine applicando il caso concreto tengono loro stessi a creare un pochino la norma di diritto, la concretizzano, la prendono dal testo scritto e la applicano al fatto concreto introducendo chiaramente la variabile che il fatto concreto richiede e quindi c'è uno... e poi vedremo anche questo se molti giudici interpretano la norma in un senso i giudici che vengono dopo di loro e soprattutto se i giudici delle corti diciamo più alte quindi la corte di Cassazione per quello che riguarda il nostro sistema tende ad applicare una norma dandogli quello specifico significato i giudici di grado diciamo più basso, cioè il tribunale delle corti d'appello tendono ad applicare la norma nello stesso modo in cui l'ha fatto la Cassazione possono distanziarsi, cioè possono decidere di applicarlo diversamente ma devono motivare in modo molto preciso le ragioni che differenziano l'applicazione di quella norma dai precedenti che li hanno anticipati in questo modo vediamo che c'è un avvicinamento tendenziale a quella che è come dire il funzionamento dei sistemi di Camolo allo stesso tempo i sistemi di Camolo siccome purtroppo la complessità della società fa sì che sia sempre più difficile risolvere le questioni, i fatti, i casi che vengono sottoposti all'attenzione dei giudici sta sempre più aumentando la legge scritta per gli statutes o comunque altre formule cioè anche nei sistemi di Camolo ci sono delle leggi scritte che trovano applicazione a determinati contesti, a determinate situazioni e anche lì quindi c'è come dire un avvicinamento tra virgolette del sistema di Camolo ai sistemi di civil law quindi non esistono più delle differenze così radicali e soprattutto voi capite quello che accade molto soprattutto nei traffici commerciali transnazionali è che alla fine il diritto che trova applicazione in questi traffici che regola rapporti contrattuali che riguardano magari società che operano in tanti stati contemporaneamente è un diritto come dire che naviga al di sopra di queste differenze no? e che poi ha delle ricadute perché poi chiaramente i grandi studi legali che si occupano magari di regigere i contratti tra società che hanno sede, chi in America, chi in Asia, chi in Cina poi devono vedere come questi contratti trovano applicazione all'interno di vari ordinamenti e voi capite che c'è una grandissima complessità che è difficile come dire da risolvere in quattro pennellate nel corso di questa lezione però volevo cercare appunto di darvi un pochino lo spessore di questa complessità allora a questo punto diciamo credo che ci siamo detti quello che potevamo dirci nella giornata di oggi e domani quindi ci occuperemo più da vicino del sistema del gerche delle fonti grazie a tutti, buona giornata arrivederci arrivederci